Jack London, Sanna Bianca, parte quinta, capitolo uno, la lunga pista. Era nell'aria e Sanna Bianca intuì l'incombente sventura prima ancora che ve ne fosse un'evidenza tangibile. In modo vago aveva l'impressione che qualche cosa dovesse cambiare da un momento all'altro. Non poteva sapere né come né perché, eppure riceveva questa sensazione dall'evento che si approssimava dagli stessi dei. In molti modi, assai più sottili di quanto non pensassero, essi tradivano le loro intenzioni al lupo che stava accucciato sulla veranda della capanna e che, sebbene non vi entrasse mai, sapeva benissimo quello che passava per i loro cervelli. Ma non sentite, esclamò il conduttore di slitta, una sera durante la cena. Guidon Scott ascoltò. Attraverso la porta filtrava una specie di lamento, profondo e ansioso, come un singhiozzo che si poteva malapena percepire. Poi il rumore di una lunga annusata, come se Sanna Bianca si fosse voluto assicurare che il suo dio era ancora nella capanna e che non aveva preso il volo da solo in qualche modo misterioso. Credo che il lupo abbia proprio intuito tutto, disse il conduttore di slitta. Widon Scott guardò il suo compagno con occhi quasi imploranti, benché quello sguardo fosse smentito dalle parole. Che diavolo vuoi che me ne faccia io di un lupo in California? domandò. È proprio quello che dico anche io, ribatte Matt. Certo, che diavolo ve ne fate voi di un lupo in California. Ma questo non soddisfece Widon Scott. Gli sembrava anzi che l'altro, magari in cuor suo, non lo giudicasse troppo bene. I cani dei bianchi non avrebbero molte probabilità con lui, continuò Scott. Gli ucciderebbe a prima vista. Finirei col dover dichiarare fallimento a forza di risarcire danni. Le autorità me lo porterobbero via e lo manderebbero alla sede elettrica. Infatti un vero e proprio uccisore, questo lo so, fu il commento del conduttore di slitta. Widon Scott lo guardò sospettosamente. Non sarebbe proprio possibile, disse con decisione. È vero, non sarebbe proprio possibile, convenne Matt. Beh, dovreste assumerne uno esclusivamente per badare a lui. L'aria di sospetto dell'altro si dissipò, annui un po' rianimato. Nel silenzio che seguì, si udì il tenue lamento, il singhiozzo sommesso fuori dalla porta, e di nuovo la lunga annusata investigatrice. Beh, non si può certo negare che pensi maledettamente a voi, riprese Matt. L'altro lo guardò torvo, con improvvisa collera. Accidente a tutto, lo so io quello che debbo fare, è quello che è meglio fare. Ma io sono d'accordo con voi, solo, solo che cosa? Sbottò Scott. Solo ricominciò il conduttore di slitta lentamente, poi sembrò cambiare idea, e tradendo l'improvvisa eccitazione che li invadeva, non c'è bisogno che usciate così dai gangheri, proruppe. Se si dovesse giudicare il vostro modo di fare, si potrebbe pensare che siete voi che non sapete quello che dovete fare. Widow Scott rimase un attimo sovrapensiero, poi disse, questa volta più gentilmente, hai ragione Matt, non so neanch'io quello che voglio, è proprio questo il problema, e dopo un'altra pausa soggiunse. Comunque sarebbe maledettamente ridicolo se mi portassi dietro quel cane. Sono d'accordo con voi, fu la risposta di Matt, e di nuovo Scott non sembrò soddisfatto di questa. Il conduttore di slitta e continuò con aria di grande innocenza. Ma in nome del grande Sardanapalo, quello che proprio non riesco a capire è come caspita faccia sapere che state per filarvela. È proprio quello che non riesco a capire neanch'io, caro Matt, rispose Scott scuotendo tristemente il capo. Poi venne anche il giorno in cui, attraverso la porta aperta della capanna, Zanna Bianca vide il fatale sacco sul pavimento, mentre il padrone lo riempiva di oggetti. C'era anche un certo andirvieni, e l'antica placida atmosfera della capanna era turbata da un'insolita enriquitezza. Non si poteva ormai più dubitare, Zanna Bianca lo aveva intuito, e ora ne aveva la certezza. Il suo dio si preparava a fuggire un'altra volta, e poiché non l'aveva portato con sé la prima volta, poteva ben immaginare che sarebbe stato lasciato a casa anche adesso. Quella stessa notte lanciò un lungo lulato del lupo, come avevo lulato all'epoca in cui era ancora cucciolo, ed era fuggito dalla foresta per tornare al villaggio, e non trovare altro che un mucchietto di immondizie nel luogo dove prima sorgeva il tipì di castoro grigio. Così quella sera puntò il muso alle geli delle stelle, e narrò a loro il suo dolore. Intanto, dentro la capanna, i due uomini si erano appena coricati. Di nuovo non vuol saperne del cibo, osservò Matt dalla sua cuccetta. Da quella di Widow Scott venne un brontolio e un agitarsi di coperte. «Da come si è comportato l'altra volta che siete andato via? Non mi meraviglierei affatto che questa volta morisse». Le coperte dell'altra cuccetta si agitarono con più irritazione. «E pianta, l'agrido Scott nell'oscurità, stai blatterando peggio di una donnetta». «Sono d'accordo con voi», rispose il conduttore di slitta. Ma Widow Scott ebbe l'impressione che l'altro stesse soffocando una risatina. Il giorno seguente l'ansietà e l'irrequitezza di Zanna Bianca furono anche più evidenti. Si incollava alle calcagna del padrone ogni volta che questi lasciava la capanna, e non abbandonava la veranda anteriore quando lui rimaneva dentro. Attraverso la porta poteva intravedere il bagaglio sul pavimento. Al sacco da viaggio erano state aggiunte due grosse borse di tele e una cassa. Matt stava arrotolando le coperte e le pellicce del padrone in un piccolo telone impermeabile. Zanna Bianca gemeva mentre era testimone dell'operazione. Più tardi arrivarono due indiani. Li sorvegliò attentamente quando si misero il bagaglio sulle spalle. Furono accompagnati giù per la collina da Matt, che trasportava la branda e il sacco da viaggio. Ma non li seguì. Infatti il padrone era ancora dentro la capanna. Dopo un po' Matt ritornò. Il padrone si affacciò dalla soglia e chiamò dentro Zanna Bianca. — Povero diavolo! — disse teneramente, stropicciando la base delle orecchie di Zanna Bianca e carezzandolo lungo la schiena. Devo percorrere una pista un po' lunghetta questa volta, vecchio mio, e tu non puoi venire con me. Adesso fammi uno dei soliti brontolii, un bel brontolio d'addio, proprio bello, l'ultimo. Manzanna Bianca non brontolò. Al contrario, dopo uno sguardo triste e interrogativo, si rannicchiò e infilò la testa tra le braccia e il corpo del padrone. — Ecco il segnale! — gridò Matt. Infatti dallo Yukon arrivò il rauco mugito della sirena del piroscafo. — Tagliate corto e state attento a chiudere bene la porta davanti. Io chiuderò quella posteriore. Forza! Le due porte si chiusero di scatto nello stesso momento, e Weedon Scott aspettò che Matt facesse il giro della capanna e lo raggiungesse. Dall'interno venne un lieve gemito e come un singhiozzare continuo, poi il lungo e profondo rumore dell'annusata. — Abbi cura di lui, Matt! — disse Scott, mentre si mettevano in cammino per discendere la collina. — Scrivimi e fammi sapere come se la passa. — State tranquillo! — rispose il conduttore di slitta. — Ma ascoltatelo! Non lo sentite! I due uomini si arrestarono. Zanna Bianca stava ora ululando come ululano i cani quando muore il padrone. Stava ululando il suo profondo dolore, il suo pianto scoppiava in grandi urla che spezzavano il cuore, diminuendo di tono in un tremolio di profonda disperazione, per poi riprendere e riaumentare gradualmente di tono, fino a scoppiare di nuovo in un'ondata di dolore. L'Aurore era il primo battello che, dopo lo scioglimento delle nevi, partiva per il mondo civile, e i suoi ponti erano affollati di avventurieri arricchiti, di cercatori d'oro dall'aria flitta, ma tutti, ugualmente ansiosi di andarsene, come qualche tempo prima, erano stati ansiosi di arrivare. Accanto alla passarella, Scott stringeva la mano a Matt, che si preparava a tornare a terra. A un tratto la mano di Matt rimase inerte in quella dell'altro, mentre il suo sguardo si fissava stupefatto su qualcosa dietro le spalle del principale. Scott si volse a guardare. Seduto sul ponte, a parecchi passi di distanza, Zanna Bianca lo fissava con lo sguardo pieno di malinconia. Il conduttore di slitta bestemmiò con ira, ma sottovoce, mentre Scott rimaneva muto, ancora in preda allo stupore. —Ma l'avete chiusa bene a chiave la porta davanti? domandò Matt. L'altro annui e domandò a sua volta. —E tu, quella di dietro? —Ci potete giurare, fu la pronta risposta. Zanna Bianca piattì le orecchie, come se volesse ingraziarsi il padrone, ma rimase al suo posto, senza neanche tentare di avvicinarsi. Adesso dovrò portarlo a terra con me. Matt fece un paio di passi verso Zanna Bianca, ma questo si affrettò a scivolar via. Il conduttore di slitta li corse dietro, e il lupo si infilò tra le gambe di un gruppo di passeggeri. Appiattendosi a terra, girando, perottando, sgattaiolando per tutto il ponte, Zanna Bianca rendeva vano qualsiasi tentativo di essere catturato. Ma quando udì la voce del padrone, si affrettò ad ubbidire prontamente. —Rifiuta la mano che gli ha dato da mangiare per tutti questi mesi, borbottò il conduttore di slitta con un certo risentimento. E voi, invece, che non gli avete mai dato cibo, ad eccezione di quei primi giorni che gli siete stato vicino? Voglio essere dannato, se riesco a capire, come caspita faccia sapere che il principale siete voi. —Scott, che stava accarezzando Zanna Bianca, si chinò improvvisamente su di lui, e indicò dei tagli freschi sul museo e uno sfregio tra gli occhi. Anche Matt si chinò, e fece passare la mano lungo tutto il ventre di Zanna Bianca. —La finestra! Quella ce la siamo dimenticata! È ferito e tagliuzzato anche qui sotto, per dinci ci deve essere passato attraverso. Ma Widow Scott non l'ascoltava, stava riflettendo rapidamente. La sirena dell'aurora mugì un ultimo avvertimento di partenza. Mentre molti si affrettavano giù per la passerella, Matt si rotolò dal collo il fazzolettone a colori vivaci che portava, e cominciò ad avvolgerlo attorno a quello di Zanna Bianca. Mascotto gli fermò la mano. —Addio Matt, vecchio mio! Quanto al lupo? —Beh, non avrai bisogno di scrivere, vedi? Io... —Che cosa? esplose il conduttore di slitta. —Volete dire che... —E' proprio quello che voglio dire. Rimetti il fazzoletto intorno al collo. Sarò io a scriverti per dirti come se la passa. Mazzi fermò a metà passerella. —Non è il clima adatto per lui! gridò di rimando. Almeno fatelo tosare durante l'estate. La passerella venne ritirata, e l'aurora si scostò dalla banchina. Widow Scott agitò la mano in un ultimo gesto di saluto, poi si volse e si chinò su Zanna Bianca che gli stava immobile accanto. —E adesso brontola pure, dannata bestia. —Brontola quanto ti pare, disse, mentre carezzava la testa che gli si offriva e la stropicciava alla base delle orecchie. —Volete dire che...